Al grande fratello, Angelica Baraldi, si è raccontata con i suoi compagni d'avventura. La concorrente ha rivelato un dettaglio che riguarda sua madre. A suo dire, avrebbe frequentato Vasco Rossi e l'artista avrebbe scritto anche una canzone per lei. Vasco si innamorò di mia mamma. Uscirono per un po' di tempo, lei aveva 16 anni, lui 26. La differenza era tanta, quindi quando Vasco andava a prenderla a scuola, lei si vergognava tantissimo. E poi niente, a un certo punto Vasco le dice di salire in macchina, perché voleva farle sentire una cosa. E mette sulla cassetta con la canzone Susanna. L'aveva scritta per lei. Nonostante il romantico gesto di scrivere una canzone per lei, la madre di Angelica si innamorò del migliore amico di Vasco. Le ha fatto sentire la canzone e lei si innamorò del suo migliore amico, il compagno DJ Daniele. Il migliore amico di Vasco. Quindi ha abbandonato Vasco, che l'ha presa male, poverino, anche perché è andata con il suo migliore amico. Però Daniele è stato il primo amore per mia mamma. La prima storia d'amore seria è stata con lui, tre anni. Nel 2017 mia mamma mi ha fatto una sorpresa per il mio compleanno. Mi ha portato a conoscere Vasco a zocca. Vasco va sempre in un bar a giocare a carte con Daniele e con i suoi amici.